Ho avuto modo di conoscerlo in nazionale, è un giocatore importante se dovesse venire a giocare qui al Milan, è un giocatore di grandi qualità sia tecniche che atletiche, ha un ottimo tiro, in fase realizzativa ha sempre fatto, per essere un giococampista, tanti gol, quindi credo che sia un giocatore importante se dovesse venire qui.